Schlomo Bruno Venezia, Reduce dei campi di Serminio, sopravvissuto al Sonderkommando. Non tutti sanno cos'è il Sonderkommando, purtroppo non tutti conoscono neanche i nomi famosi come Eichmann. Può raccontarci la sua esperienza di reportato e di purtroppo operatore del Sonderkommando. È un'esperienza molto lunga, ci hanno distrutto tutto da quel periodo, ognuno ha dovuto rincominciare la vita da quello che si è salvato. La mia famiglia è stata deportata tutta, ho perso tutti quanti, siamo venuti fuori tre persone da tutta la famiglia e siamo stati più fortunati. Il resto era arrivare sul posto e buttarli via tutti, eliminarli subito, così si sbrigavano prima. Dopo il viaggio di parecchi giorni in questi carri bestiame, i vagoni bestiame, arrivati sul posto e naturalmente ho levato via almeno dal mio gruppo, 1500 persone, ne hanno lasciato 400 e qualche cosa, il resto tra cui mia mamma e due sorellina. Comunque gli altri, il fratello e la sorella, ci hanno messi per lavorare e siamo stati fortunati a venire fuori da questo posto. Io in particolar modo e anche mio fratello, venendo appunto dalla Grecia, eravamo ancora in salute e con la forza, giovani, avevano bisogno di persone molto forti e ci hanno prima messi in quarantena e dopo di là prendevano le persone per mandarli a lavorare. Il lavoro che ci hanno dato a noi era il lavoro che in quel periodo avevano bisogno di aumentare il personale del zone del comando che poi sarebbe gli addetti che lavoravano ai crematori. Dico subito che c'erano quattro crematori, costruzione proprio e poi c'erano due bunker, i bunker sarebbero dei fossati dove all'aperto bruciavano i cadaveri. Io sono stato messo subito in un crematorio numero due, in questo crematorio lì era uno dei migliori, sarebbe l'uno o il due di Birkenau, erano costruiti proprio con l'ultima ritrovata diciamo di queste cose e gli altri erano piuttosto molto molto peggio dell'inferno, era tutto un inferno però lì era peggio ancora. Stavo solo, mio fratello invece stava in un altro che era peggio ancora di questo. Dopo io sapendo, essendo giovane, vent'anni, sapevo anche un po' di tedesco perché il periodo dell'occupazione tedesca io mi davo da fare per mantenere la famiglia eccetera. Quando si è giovane si apprende subito anche la lingua, di fatto mi ha salvato la lingua là e ho avuto anche un po' di protezione da quelli che erano più su di me. Comunque ho cercato di dare una mano a mio fratello che era in un posto veramente che avrebbe lasciato la vita e un altro crematorio vicino che non aveva neanche i letti per dormire la notte. dovevano dormire dove si spogliava la gente quando arrivava, immaginate un po' la tragedia. Comunque ho fatto anche quello che mio fratello, sono riuscito a portarlo da me e così abbiamo avuto la fortuna di venire fuori di là perché eravamo tutti condannati a morte. Condannati a morte perché non volevano lasciare testimonianze. Uno mi domanda come mai voi siete usciti fuori? Abbiamo avuto la fortuna di uscire fuori. La fortuna è stata la seguente con la disgrazia di altri. La disgrazia di altri era la deportazione dell'Ungheria. In quel periodo c'è stata la deportazione dell'Ungheria ed erano parecchie migliaia di persone. Allora non potevano più cambiare il personale che lavorava appunto nei crematori che una certa pratica bisognava averla perché non puoi prendere con i piedi, bisognava saper prendere i cadaveri e come la gente che andava dentro le camere a casa eccetera. Quelle venivano come le pecore poverini, andavano tutti da soli uno dietro l'altro. C'erano i tedeschi di destra e sinistra e si incammeravano fino all'ultimo, dopo chiudevano la porta, sempre il tedesco vicino. La gente pensa che eravamo noi che lavoravamo là e facevamo quello. Di quello eravamo completamente fuori, però vedevamo tutto. E difatti dopo aver chiuso il tedesco guardava per la spietta che c'era nella porta e guardava internamente per vedere addirittura la morte di queste persone. Era una cosa molto tragica e così la gente veniva eliminata quando alla fine aprivano la porta e si metteva in opera questi che lavoravano in questo famoso zon del comando che poi sarebbe comando speciale, non è che... E così era tutto il tempo questo lavoro. Non si faceva tempo di svuotare quella camera dove venivano uccisi, la camera a gas e che già erano continuazioni, continuazioni che arrivavano specialmente dall'Ungheria, la Ciocoslovacchia e Ungheria. Ho letto da qualche parte che c'è stato un episodio di cui lei è stato testimone di un bambino che era sopravvissuto al gas. Mentre avevano aperto le porte avevano cominciato all'inizio naturalmente era pieno fino alla porta allora lì era piuttosto pesante e la porta si apriva dall'esterno così e incominciavano era il mucchio diventava quasi un metro, un metro e mezzo uno sopra l'altro a cavallati perché purtroppo quelli per morire non erano a morte, la morte migliore era un colpo alla nuca quella era la cosa migliore, però la morte col gas era tremenda, la gente non aveva aria, cercava di andare su e dopo cadendo andava uno sopra l'altro e i mucchi erano attorcigliati in una maniera tremenda e dovevano essere districati, tirare fuori eccetera e da lì messi dopo in una era del sottosuolo, venivano messi in un montacarichi, mettevano otto, dieci, dodici, dipendeva il peso e portavati sopra, lì c'erano questi famosi forni crematori, erano quindici bocche di fuoco, erano cinque forni con tre bocche ognuna e lì c'era il personale che si dava tutto, erano dodici ore continue, da otto di notte fino alla mattina e della mattina fele alle otte, era un continuo così, si dormiva là dentro, non veniva a contatto con nessuno e questo era il lavoro che noi facevamo in questi posti, il don del comando. Prima di arrivare al punto di bruciare quelli che erano detti ai forni, io facevo il barbiere veramente, avevano chiesto chi era barbiere, avevo detto barbiere, pensando di tagliare i capelli, invece era di tagliare i capelli ai morti, molti fraintendono, pensano che tagliare i campeni si tagliare i vivi, invece loro pure i capelli dei morti avevano bisogno, difatti quando li estraevano dalla camera gas c'era un piccolo atrio, erano 4 o 5 con una forbice da sarto, come le pecore, tagliare via questi capelli e metterli dentro in un sacco, dopo ho saputo, lì per lì non sapevamo che cosa, ho saputo dopo che facevano addirittura delle stoffe, dopo che hanno aperto le porte, dopo poco tempo di aver aperto sentiamo un gang, non sentiamo, uno ha sentito quello che stava sopra per districare, sente qualche cosa, facciamo così per sentire, dopo 2-3 minuti sente qualche cosa, alla fine siamo fermati e sentiamo da lontano un gang, allora vai vai sopra i morti perché non c'era spazio dove camminare, sopra i morti proprio all'angolo di questa camera la gasca era lunga almeno una cinquantina di metri, fino in fondo in fondo questo bambinello che stava vicino alla mamma, stava lattando, finchè la mamma dava il latte il bambino era tranquillo, come si è fermato e il latte non veniva più, è morta la mamma e il bambino si lamentava, voleva mangiare, allora ha preso il bambino e l'ha portato fuori vivo e noi sapevamo la fine del bambino perché non c'era uno che veniva fuori di là e difatti il tedesco già pronto, tutto contento, strofinarsi le maniche, c'ha da sparare un colpo per ammazzare un bambino e difatti tutto contento, subito andato all'angolo dove di solito quando arrivava qualcuno così extra del gruppo che veniva aggassato, era lui che sparava, prima sparava con la pistola, dopo invece sparando con la pistola così vicino gli schizzava addosso il sangue e non gli andava bene, era tutto, allora dopo ha preso il fucile da caccia quelli da lontano, sparava un colpo e quello cascava per terra. Quest'anno sono 50 anni dal processo Eichmann, fu catturato, processato fra il 1961 e il 1962 e poi giustiziato, alla luce di quello che lei ci ha raccontato, se l'avessi avuto di fronte, cosa avrebbe fatto, pensato? Io guardo una cosa semplice, una parola le avrei detto in tedesco, schwein, che vuol dire maiale, è uno sputo il più grande che avrei fatto in voga per sputarli in faccia. Il giorno della memoria è un giorno, qui deve essere per tutto l'anno, per sempre, non bisogna dimenticarsi, allora niente per un giorno. L'altro giorno a Firenze sono stati uccisi due senegalesi. Molto male. E il loro rappresentante, il capo dei senegalesi ha detto, noi pensavamo che dopo Auschwitz non fosse più possibile, cosa ne pensi? Il senegalese pensava molto bene però non sa la mentalità delle persone, purtroppo la mentalità è rimasta la stessa, specialmente in quei più giovani. Quindi il messaggio ai giovani qual è? Il messaggio ai giovani è di vedere, sono due le cose, il bene e il male. Delle due cose cosa è meglio prendere? Allora io ti faccio vedere qua il bene cosa vuol dire, che fai contento una persona che la carezzi e vedi il male che ha uno che lo picchi, lo stai facendo piangere. Delle due cose cosa scegli? Scegli il bene, prendiamo il bene.